Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video e farò un dietro i vittimi insieme a voi e andrò, già vi dirò che andrò a utilizzare dei colori questa palettina qua della yes love sì esatto allora devo decidere ancora uno l'ho deciso che volevo fare non ho mai trovato questo verde oliva e faccio sì esatto quest'altro verde qua sopra mi c'è un pennellino che casta aspettate andrò a fare come base prima sotto andrò a mettere scusate questo qui questo color verde oliva e poi questo color verde militare sopra così per per cambiare non ho provato mai questi verdi un po così insomma ecco quindi farò di queste tonalità colore di questo ghettori di vittimi niente cominciamo subito ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.